Ciao ragazzi, come ogni viaggio che si rispetti non può mancare una tappa al rifornitore oggi siamo qui ad aspettare la nostra, anzi non la nostra, non la nostra macchinina la macchinina del buon Andrea Diodato che è andato a caccia del tizio che ci farà un rifornimento GPL ma a quanto pare sta tornando da solo? No, c'è una signora con lui ottimo, può essere che finalmente riprenderemo il viaggio verso la felicità, verso l'ungaro ring infatti questo è il vlog che ci porta a raccontare quello che è l'accredito dell'ungheria restate sintonizzate adesso io faccio il viaggio con voi, l'anno scorso questo viaggio l'ho fatto da solo e ho fatto qua viaggiare tesa, bello a pesa adesso cosa molto importante, ritiro accrediti e c'è un po' d'acqua in arrivo finché ti sei mancato tutta la parte del viaggio comunque non è vero, non è vero non si dicono le paracce su YouTube siamo un po' stanchini, però abbiamo preso l'accredito e adesso andiamo, verso l'acqua, no, verso l'autodromo da qualche parte, lì ci sono le indicazioni, vedremo, vedremo, dai qualcosa faremo ci siamo eccoci, è arrivato lì, è in circuito è in circuito e ci accoglie un tempo non proprio bello pioggia e tanta umidità, ma adesso shuttle e andiamo al centro sala stampa siamo entrati in sala stampa, adesso prendiamo posto soprattutto a Roma Vietto per i fotografi, abbiamo scelto il 113 dove potremo portare tutte le nostre attrezzature e cose sensibili che non vogliamo perdere allora, posto in sala stampa ho preso, ma c'è un piccolissimo problema ma fuori diluvia e si sente benissimo il suono della grandine che cade e siamo adesso barricati zuppi, molli, non passa, cazzo dicevamo, siamo posto preso in sala stampa, ma c'è un piccolissimo problema perché fuori sta diluviando e siamo già molli, zuppi, pratici, magliette decisamente bagnate e non sembra che smetterà tra poco, però ecco, forse si intravede qualcosa e adesso ci ripariamo qui in sala stampa ovviamente perché viene più comodo il Marocco è spettacolo il spettacolo il Parlamento non ho capito se non potevamo entrare si le camere, qua c'erano solo le bici e i mezzi dell'aspetto quella sti cazzi l'abbiamo fatta ormai e parcheggiata la macchina, beh, che fai? un giretto a Budapest, non te lo fai? il Parlamento, che di notte diciamo che è uno spettacolo dove c'è quella fessura di solito c'è accesa una fiamma che in teoria dovrebbe stare a indicare la l'ardore della vita, tutte quelle robe così ma è anche recente perché 2020 ha fatto figo il giorno 2 siamo già in pista non possiamo inquadrarla però adesso c'è una cosa molto importante colazione quindi bella robetta e poi facciamo vedere insomma quello che è vedi ripedi? andiamo si era ragionata da veri campioni edizione Ungaro allora sì qui abbiamo un ottimo muffin ottimo si vede bello facciotto bello gonfio non di laboratorio qui abbiamo una non lo so è buonissimo salvabile diciamo giorno 2 all'ungero ring concluso ovvero il media day giovedì quindi giornata di interviste incontri con i piloti dichiarazioni pre weekend e anche tanto altro ma con chi abbiamo incontrato con chi abbiamo parlato sia Ferrari McLaren Mercedes e Red Bull Verstappen ha annunciato che ci saranno delle novità su questa RB20 che corre in Ungheria e dovrebbero essere delle novità molto importanti che saranno visibili a detta del pilota olandese poi abbiamo incontrato i due Ferrari che hanno confermato comunque l'arrivo di questo fondo che dovrebbe limitare il problema del bouncing e qui non si dovrebbe vedere visto che le curve sono molto più lente non si dovrebbe innescare il fenomeno e ultima cosa i Mercedes sono molto galvanizzati perché ovviamente hanno vinto le ultime due gare e vedremo come si comporteranno qua adesso torniamo a casa e editiamo un po' tutto il giorno 3 allora ieri abbiamo fatto media day quindi interviste piloti team principal cioè team principal oggi perché è venerdì è nell'intervallo tra PL1 e PL2 e adesso torniamo in sala stampa dove aver fatto una colazione buona e macchinetta fotografica si scende in pit lane per fare le foto alle macchine e poi si attende il car display dove possiamo vedere tantissime novità e le macchine esposte ci permettono proprio di vederle e quasi toccarle anche se non possiamo però vabbè dettagli adesso direzione sala stampa dove prendiamo tutte le nostre cose e dirigiamo in abbiamo viaggiato un pochino nel tempo vi abbiamo lasciato un po' in sospeso quest'oggi e sono le 23 e 12 siamo tornati in camera dopo una giornata molto stancante tra interviste e prove libere contenuti portati a casa adesso si rielabora un po' di materiale si scrive qualche articolo e cose esclusive che sono già uscite quando vedrete questo video tra cui il fondo delle perk che potrebbe essere una nostra esclusiva diciamo vedremo domani insomma e ecco dai adesso noi torniamo a lavorare e ci vediamo domani mattina buonanotte buongiorno a tutti sabato qualifiche fp3 abbiamo fatto un aggiornamento un po' tardi perché sono le 13 e 47 quindi ci sono da concluse da un quarto d'ora venti minuti circa le fp3 con non rissegata davanti e ferrari malino a proposito di ferrari ieri sera come vi avevo detto nel video dalla camera dell'albergo abbiamo trovato siamo riusciti a scattare le foto del fondo quindi una esclusiva abbastanza importante e abbiamo fatto l'articolo quindi lo trovate sul nostro sito adesso tempo di ricaricarsi sistemare le foto che abbiamo fatto durante le fp3 perché siamo andati in pista e poi andiamo a registrare qualche altro contenuto per i social instagram che sicuramente troverete sul nostro profilo instagram e tiktok anche ma poi tempo di qualifiche e si scateneranno tutti quindi vi aggiorniamo più avanti ciao allora con un cappellino alquanto discutibili qualifiche ormai conclusi da un pezzo e poi vabbè l'avrete viste sicuramente belle qualifiche possiamo dirlo molto divertenti si non per me non per me fotografo perché ero in pista sotto l'acqua ma va bene e sono stato in piedi a ring non me le sono potute molto più di te devo dire la pena però per vedere almeno quello che succede sicuramente sicuramente meglio però ecco giornata comunque positiva per le McLaren perché prima fila bloccata loro Verstappen non proprio contentissimo della macchina anche se comunque un pacchetto nuovo deve essere ancora compreso Ferrari Ferrari male possiamo dirlo male bocciata totalmente il nuovo fondo che doveva portare non sta dando gli attention non sta dando i giusti frutti la macchina continua ad essere abbastanza imprevedibile si vede che manca bilanciamento e che le McLaren non ha fiducia nel mezzo anche se ha detto che ha massimizzato il risultato si purtroppo si è massimizzato al stesso posto c'è da preoccuparsi soprattutto in vista della gara di domani perché è solo 70 gili in cui potrebbe succedere di tutto temperature più alte temperature più basse oggi comunque era freddo in pista e ovviamente ciò non ha aiutato la prestazione delle gomme e ovviamente della prestazione generale della monoposto ma vedremo poi adesso torniamo in ostello in albergo e finiamo di sistemare le foto scriviamo qualcosa scriviamo qualcosa che ci arriva va bene con questo saluti ci vediamo dopo ciao allora race day quindi adesso andiamo a iniziamo arrivare in circuito parecchio presto perché sono le 8 abbiamo già fatto colazione quindi ci sistemiamo un attimino qui in sala stampa sistemiamo computer e cose varie e cosa molto importante oggi guardiamo dove sono le zone rosse per capire dove possiamo metterci per fare le foto in pista vi faremo saluto vedrete sicuramente le foto online e bene adesso articoli sistemiamo gli ultimi articoli per esempio strategie di cara perché sarà molto importante soprattutto con un clima temperature che potrebbero cambiare nel corso della giornata bene adesso rimetto un attimino al lavoro ecco come vi dicevo le zone rosse nel frattempo che si accende il pc possiamo scegliere in diversi punti ovviamente tranne queste lineette rosse che indicano i punti dove non ci si può mettere dove non si possono mettere i fotografi adesso ragioniamo un attimino dove andare però probabilmente probabilmente sarà da queste parti per fare delle foto molto carine adesso connessione internet c'è bene come vedete sono le 8 e 0,8 apriamo i nostri canali per la gestione della del gruppo anche dei ragazzi che sono a casa così li avvertiamo che stiamo lavorando su su un determinato articolo bene ci aggiorniamo dopo dai a credito direi ufficialmente finito siamo stanchi cotti sudati abbronzati qualsiasi cosa come avrete visto spero se non l'avete visto male ha vinto piastri prima vittoria si norris secondo e hamilton terzo podio numero 200 quindi sono difficili da contare a questo punto soprattutto perché ha iniziato nel 2007 in formula 1 dal 2007 al 2024 200 volte a podio e 104 di cui di cui 104 vittorie ecco una media di più del 50% di conversione diciamo che è tanto no e abbiamo raccolto post gara le dichiarazioni che avete visto o comunque potete leggere sul sito di vari leclerc science vasser e vari piloti mclaren e quindi insomma c'è tanto da lavorare e tante foto che potrete vedere sul sito comunque sui nostri social e adesso prendiamo una macchina e torniamo in albergo la festa grossa alla fanzone era venuta a Imola sì sì allora sarà un mondo perché è l'Olanda l'Olanda non pensa e mentre noi lasciamo l'autodromo di Budapest qui prosegue la festa tu mi dici vai dritto io devo andare a destra vabbè noi proseguiamo te ne sposto in Ungherese saluti esatto